18 euro al mese? 18 euro al mese? Ma non so che farà un video, lo sapevo che sei Se ti iscrivi solo a un canale Sono al canale Poi anche spenderci 2.000 euro al mese Anche 2-3.000 10.000 euro al mese 10.000 euro al mese E fa una cosa che si può fare gratis Se non sbaglio C'è l'immaginazione se non ricordo bene Se non scordo O persino Quando paghi ti dà quella frizzantezza Sì, dei 10.000 in meno Conto questa cosa Ho fatto una sola volta l'iscrizione Holyfans E ho trovato questa A un certo punto sono rimasto malissimo Perché lei faceva solamente delle Fellazio in primo piano E quindi praticamente Mi sono trovato a spediciotto euro Penatizia Perché che ti immaginavi che ti raccontava Margherita Ursenar Che ti aspettavi Brecht al contrario Come Elio Germano Come Elio Germano E' di schöpito Ehi Ehi